Questa mostra nasce perché mi frullava da tempo l'idea di creare dei ritratti su Mina, perché Mina per me è stata sempre un mito. Nel mio passato c'è stato un periodo dove io cantavo e ho iniziato a cantare proprio con le sue canzoni, quasi in modo anche ossessivo. C'erano alcune canzoni che cantavo parecchie volte al giorno, come per esempio Vorrei che fosse Amore, Insieme e poi di Mina. Ne cantavo veramente tante, anche nelle mie serate mi dilettavo a cantare le sue canzoni, è stata un'ispirazione. Adesso ho avuto anche questa grandissima possibilità di ritrarre Mina. Nel primo passaggio ho cantato le sue canzoni e invece adesso l'ho dipinta. Le tecniche che ho usato è una tecnica mista, per esempio questo alle mie spalle è un acrilico su tela e lo sfondo giocato un po' con la carta di giornale, perché in quest'ultimo periodo mi sono sbizzarrita con il giornale perché mi affascina l'idea di questo movimento che può regalare la carta e in questo caso l'ho messo su questo sfondo e devo dire che mi ha soddisfatta molto. Dipingere Mina per me è veramente un onore, anche perché secondo me Mina è una grande artiste, è un grande esempio per tutti noi. Lei ci insegna che se hai talento, se studi, approfondisci tutto quello che fai, sicuramente si può emergere senza ostentare, perché chi ha il talento la gente lo riconosce. Grazie a tutti.